ovviamente ovviamente canyon dei re dei re all'attenzione attenzione vi dico subito un grosso news e a quanto pare ci saranno anche ci saranno anche le due di questo gioco sono il jump ma vedi che lag c'è mente a me va fluido ma su bs lagga non so perché il jump cancer sono io sono io vabbè non so perché quando c'è il drop dall'aereo lag vabbè calcola che è free è per uscito così che può infatti sarebbe stato qualcosa se non era coderoido porco adesso adesso vedo che va fluido c'è praticamente solo quando troppo va il calabrese il calabrese il calabrese non c'è nessuno che lo sa tre tiri finisci dice manchi cani non sei su tutti i cristiani va bene vede vede e allora boh vabbè fortunatamente se è un problema solo quando troppo è accettabile nel senso poi tanto lo dovete di fixare lo stranissimo molto strano e franky prova adesso prendi con la festa questa frase che hai detto franky no provare a metterla applicarla su qualcosa della vita tipo se cos'è che hai detto se solo quando droppo non è un problema tu immagini se il cazzo ti si rizzasse solamente quando scopi pensa se si troppa il cazzo tutto il giorno col cazzo dritto quando scopi no perché io rido un'ora io guardo un'ora esplorare questi bellissimi corpo umano corpo umano la vera domanda sarà quanto ci metterà scapp per farsi bannare il suo account di twitch io dico un paio di minuti un paio di streaming e poi questa frase proprio c'è il copyright ormai rimarrà negli anni rimarrà negli anni negli anali al massimo ti ricordi quando il tuo canale era famiglia amico me lo ricordo bastava una streaming fa praticamente è flammando che ve ricordi posso farmi una seghe in live no fallo fallo come la giapponese che mi avevi mandato che si era segata in live io io vi voglio ricordare una cosa che una volta gb ha fatto una live nudo su youtube alle a luna di notte su rainbow six e vedevate la streaming di lui a petto nudo ci scrivono che se lo fai su twitch e non rivedi il tuo canale per un mese nemici ci sono contatti no no ti ho pingato uno scudo hai usato il ping del nemico non va bene che cazzo ne so io ho premuto il tasso centrale grazie no qui ci sono altri caschi blu è una buon'arma sì sì te la ricordi? io qua la mi ricordavo di devotion poi bisogna uno zaino un po più grosso perché davvero non ho più spazio per nulla ah no vuol dire che sta a prendere un drop proprio nel grano andiamo a prenderci il drop e andiamoci a prendere il drop c'è che prima scorre giù casco oro ovviamente te lo prendi? si è un kit fenice però ho droppato il casco viola beh ecco lo vengo a prender subito e poi prendetevi anche questa regatura per il long bow per no non mi serve ok e allora niente per il resto ci siamo una cosa interessante vabbè per il momento lasciamoli laggiù hanno chiamato il drop poi sono 300 metri quindi io ci provo eh no preso vabbè se riesci a shottarli vai nel frattempo guardo anche dietro magari oh lo è toto e notti che lunga quindi ha mi chiamo però ma ah va un culo sono caduto sono quindi colpi energetici vero? no purtroppo no allora mi sa che non sparo più quindi questo è quello che metteranno e poi anche il cross il cross è stato scritto che lo dovrebbero mettere il cross platform ma ancora non si sa di preciso non hanno detto nulla riguardo madonna gli ho rotto la corazza hanno detto che è nei loro piani dammi dietro che ti uso lo scudo la di creare una versione per nintendo switch e anche per mobile sinceramente non so come fanno a fare un gioco del genere mobile la vedo molto difficile pieno di tasti pieno di cose da fare però su nintendo switch pure pure ci può stare però e poi se penso che prima magari faranno le versioni per nintendo switch e per mobile e poi faranno il cross platform ecco secondo me buttano tutto insieme beh ci sta è una politica aggressiva ragazzi dietro di noi sta a prendere un altro drop quindi occhio ho visto adesso caricando lo scudo però dovrebbe essere un drop non chiamato da persone dovrebbe essere un drop di default del gioco vero ma che vada teniamo comunque un occhio aperto stai facendo troppo rumore lo so che menti si chiama poi flammo a me perchè sono o si sta legnando la questo è perfetto per te che non sapendo fare le codici la la almeno puoi pingare esatto ha ridotto di oh io tengo d'occhio il drop devo darti una mano senti è qua l'ho pingato ma eh fino ad occhio esatto eh al momento nessuno ci sta andando mi ha provato il capo a chiare prova a scendere un attimo a luttare mmm vabbè se ci crepo pazienza mmm che cos'è ma che ne so ma hai visto in vita mia questo cos'è no 6-12 per hai preso tutto 12 per si si te lo porto io ho trovato il kraber è un cecchino con la ottica 6-10 per da qua non si può salire no rip no è quest'arma è micidiale ragazzi che cos'è tutta oro poi indice di super mi stai portando la roba mate eh se mi do una fetta di culo te la porto e guarda che arma che ho trovato ti è eh il cecchino gigante si quello legna da dio vedi qua no ma raga 10 per ma stiamo scherzando questo è 12 porco 2 madonna se zoom beh 6-12 per non sei contento si si madonna mia dov'è che erano nemici così eh erano lì eh c'è un po' di si sento che fightano ma non li vedo eh perché sono dietro lì 50 giù di sento che fightano anche là eh infatti sto sentendo beh sicuramente con sta ottica ci siamo messi bene 5 squadre rimaste 4 squadre rimaste pardon pardon dai cerchiamo di di portarla al sicuro questa zona no cerchiamo di portare al sicuro questa zona vedo degli spari vabbè per il momento rimaniamo qua abbiamo il vantaggio dell'altezza abbiamo il vantaggio di avere anche le ottiche da cecchini comunque io ho visto shroud col coltello come col coltello c'è un coltello c'è anche voi e c'è il tuo il tuo operatore Frankie e come fa se non ce l'ha e non lo so so che ce l'aveva oggi in live o forse è un'arma rara che si trova a terra no quando lui switchava le armi che le toglieva gli appariva il coltello in mano al posto di pugni magari è una cosa che si sblocca non lo so vediamo sto fightando con qualche altro team sì ma con un team sotto gli ho fatto 100 gli ho fatto 100 69 ha battuto ha battuto uno è down sarebbe da andare no è down in quel altro cos'è qualcuno gli ha buttato pure una stricca ah stanno là dietro aspetta uno sta là dove devo ricaricare di già che palle c'ho solo 4 colpi nel caricatore ok tirato giù arrivano gli altri arrivi di arrivare l'altro team sì 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 niente sti colpi proprio a vuoto stanno andando manco uno l'avessi preso ok uno gli ho tolto la corazza comunque ne mancava uno dell'altra squadra che stanno sparando fuori eh si sarà si sarà autoressato no no uno l'ho fatto però era giù a terra vuol dire che qualcuno dell'altro suo team manca sento un movimento eccole qua è sceso sotto il maledetto gli a me stanno per finire tutti i colpi eh venga 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 lo vede là giù c'è uno lì sotto ecco guarda che si sta muovendo bastardo C'è un altro anche là C'è tre squadre Quindi ce n'è uno singolo Occhio perché fra 20 secondi parte la safe E noi siamo fuori safe di brutto E la safe è velocissima Si sta legnando là Inferiamo Ma poi ti dà una scelta là sopra No no non prendi danno Ah cazzo saperlo Sto pushando come un cane Ti seguo a ruota Lancio Lancio tutto Ah bastardo Dov'è No Merda raga io sono dentro lo sto cerchio C'è Mamma mia ragazzi io l'ho rimasto dentro il cerchio Ho già vinto una partita Mamma mia Ho fatto 4 game in vita mia Ho fatto cazzo forte il devotion Mamma mia ragazzi bello bello GG Che bello Che bello